Ciao a tutti, bentornati sul canale Amo gli italiani. Tra le trasmissioni più seguite vi sono senza dubbio quelle di Maria De Filippi Ecco, a tal proposito, quando torna c'è posta per te. La vita ci offre la possibilità di vivere un continuo turbinio di emozioni Alcune di esse sono indiscutibilmente positive, mentre altre, di contro, procurano in noi dispiacere, dolore e sofferenza Dietro ai sorrisi che mostriamo al mondo ogni giorno, infatti, chi più chi meno tutti noi abbiamo dei macigni sul cuore che ci affliggono, tra cui i rapporti interrotti che vorremmo recuperare, li di familiari, matrimoni distrutti e molto, molto altro ancora In questi casi, il primo istinto è quello di cercare di aggiustare le cose tramite i mezzi che abbiamo a nostra disposizione, ma nonostante l'impegno e i molteplici tentativi, non sempre si riesce a ottenere il risultato voluto E così, dopo averle provate tutte, non resta altro che compiere un gesto estremo, qualcosa che magari non avremmo mai pensato di fare, ovvero, rivolgersi a un programma televisivo che ci aiuti a raggiungere il nostro intento Quando si parla di chiarimenti e riappacificazioni, c'è solo una persona alla quale, inevitabilmente, va il pensiero di chiunque Si tratta ovviamente di Maria De Filippi che, con la sua trasmissione intitolata C'è posta per te, si occupa proprio di scandagliare e di provare a risolvere le problematiche che affliggono coloro i quali decidono di parteciparvi Arrivati al mese di dicembre, molti telespettatori si staranno sicuramente chiedendo quando andrà in onda la nuova edizione del suddetto programma Se anche tu sei curioso di scoprirlo, non ti resta che proseguire la lettura Quando torna in tv c'è posta per te Il People Show c'è posta per te Va in onda da lontano 2000, e come tutti saprete, è ideato e condotto dalla celebre Maria De Filippi Ogni puntata del programma prevede la partecipazione non solo di persone che desiderano recuperare un rapporto perduto, ma anche di coloro la cui volontà è quella di regalare a qualcuno di importante un momento indimenticabile In questi casi, il format della De Filippi prevede l'arrivo di ospiti d'eccezione appartenenti al mondo sia dello sport, sia dello spettacolo, del cinema e della musica Stando alle recenti anticipazioni di SuperguidaTV.it, per assistere alla nuova edizione di C'è posta per te dovremo attendere, come ogni anno, il mese di gennaio Ma questa non è di certo l'unica indiscrezione a essere emersa Come affermato sempre dal suddetto portale, infatti, sembra che dalle registrazioni siano già trapelati i nomi di alcuni ospiti che avremo modo di vedere nel corso delle puntate, Paolo Bonolis, Sabrina Ferilli e ben tre attori della soap opera Terra Mara Queste, ovviamente, sono solo piccole anticipazioni, e per scoprire tutte le storie, gli altri ospiti e il giorno esatto della messa in onda della nuova edizione di C'è posta per te, non ci resta che aspettare Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video